Il settore enologico abruzzese continua il suo trend positivo e si conferma come una delle aree trainanti per l'economia regionale. Lo ha dimostrato anche a questa 53esima edizione del Vinitaly, la più importante kermess dedicata al mondo dei vini e dei distillati. Filo conduttore di questa edizione resta la valorizzazione dei territori che compongono la regione. Quest'anno abbiamo per il secondo anno consecutivo un'area riservata di 1500 metri quadri con al centro l'enoteca regionale e intorno ai territori d'Abruzzo. Il binomio vino-territorio è un binomio fondamentale e queste sono le occasioni in cui lo riusciamo a comunicare sicuramente meglio quando si è tutti insieme in un padiglione così evidente dove un'area che finora non è stata ancora del tutto riconosciuta come area a vocazione vitivinicola sta crescendo e sta affermandosi sempre di più. Qui a Albinitaly abbiamo cercato di curare tutti gli aspetti che riguardano l'Abruzzo, rappresentare il paesaggio, rappresentare anche la cultura culinaria. Attraverso Qualità Abruzzo, un'associazione di bravissimi chef abruzzesi che sono interpreti oggi di una tradizione lunga e sicuramente apprezzata non solo da noi ma da chiunque poi entra in contatto con l'Abruzzo. Abbiamo dato il nostro contributo, soprattutto siamo rimasti anche meravigliati perché non ci aspettavamo nemmeno un'affluenza nel ristorante Qualità Abruzzo così importante. Dolce Vecchia Giulia si chiama così perché per gli abitanti di Giulianova il nome Vecchia Giulia sa significare, rende subito l'idea di un qualcosa che si faceva una volta. Ringraziamo tutti i nostri partecipanti ma soprattutto il Consorzio Tutela dei Vini Abruzzesi, la Scuola Alberghiera di Teramo e tutti i nostri aiutanti che ci hanno dato una mano a far riuscire questa giornata bellissima, a tutti gli chef e a tutte le cantine che hanno partecipato a questo evento di questa giornata.